Molto piacere introdurre questo secondo appuntamento del ciclo di incontri che è stato menzionato da Roberta Lazzari e dopo aver discusso e analizzato il ruolo dell'intelligenza artificiale a supporto delle strategie aziendali in questo incontro di oggi vogliamo cercare di entrare un pochino più nel dettaglio delle trasformazioni che l'industria 4.0 ha avuto può dare in termini di supporto alle imprese per quanto riguarda in particolare un ambito molto specifico ma anche molto importante e critico da un punto di vista del valore che è il tema della logistica. Il titolo appunto è Big Data e Logistica 4.0 e io farò soltanto una breve introduzione per come dire sollecitare la discussione e gli interventi che verranno. Un primo elemento che vorrei sottolineare riguarda il fatto che siamo ancora in una fase in cui non siamo usciti dalla pandemia. Uno degli elementi che nel corso dell'ultimo anno è emerso in maniera molto chiara è che c'è stata una forte trasformazione dei consumi, della trasformazione dei mercati e questo grafico che vi porto vuole semplicemente indicare come nel corso dell'ultimo anno anno e mezzo c'è stata una forte pressione su alcuni processi a livello di diciamo consumatori finali come racconta questa slide ma anche a livello di mercati industriali in cui da un lato c'è stato un forte utilizzo degli strumenti digitali penso ai canali appunto del commercio elettronico per riuscire a sostituire quelli che sono stati i vincoli di acquisto legati alla impossibilità di muoversi di raggiungere punti vendita e quindi c'è stato una forte incremento del commercio elettronico ma c'è stato anche una trasformazione di ciò che veniva consumato con alcuni settori, alcune filiere che hanno avuto una forte crescita da un punto di vista della domanda e altre invece che si sono trovate più in difficoltà. Ecco questo quadro significa anche immaginare uno sforzo molto molto importante per le imprese e per le filiere nel dover affrontare diciamo anche le opportunità che le tecnologie digitali possono dare nel riuscire a raggiungere mercati che si stanno in qualche modo trasformando. A fronte di un'enorme opportunità che in parte si è aperta anche pura diciamo nelle difficoltà del quadro dello scenario diciamo della pandemia ci sono però alcuni elementi che ci portano all'altro tema che vorrei evidenziare oggi che è il tema diciamo della logistica dentro le filiere a livello nazionale ma soprattutto internazionale. qui le persone che seguiranno, i redattori che seguiranno sono più esperti di me nell'affrontare il tema della logistica. Io mi limito a usare questa immagine che forse molti di voi hanno visto ancora a marzo di quest'anno che racconta di questo purtroppo diciamo increscioso incidente che c'è stato nel canale di Suez in cui una nave che vedete molto carica di container ha di fatto mettendosi di traverso ha bloccato per quasi una settimana il traffico commerciale soprattutto delle rotte che provenivano dall'Asia verso i mercati diciamo europei. Questa crisi diciamo del canale di Suez ha avuto non soltanto ripercussioni da un punto di vista economico ma ha messo in evidenza anche i pericoli di criticità, di fragilità se vogliamo anche di dipendenza che le filiere organizzate e le supply chain organizzate a livello internazionale possono avere. E qui arrivo all'ultimo punto e poi lascio la parola a Marco Bettiola e ai relatori, qui in realtà ci interessa capire in che modo le tecnologie della quarta rivoluzione industriale, quella che conosciamo come industria 4.0 possono inserirsi all'interno di questa doppia valenza, da un lato un'opportunità di raggiungere i mercati ma dall'altro tenere in considerazione che occorre governare supply chain e catene del valore che sono ancora internazionali spesso complesse. C'è un primo ambito che riguarda appunto il fatto che le tecnologie digitali, non entro adesso nel dettaglio, hanno una forte capacità di connessione, cioè oggi uno degli elementi importanti di queste tecnologie è proprio quello di consentire a più attori all'interno della catena del valore di scambiarsi informazioni, di scambiarsi dati, di gestire previsioni, di poter lavorare in maniera coordinata verso un obiettivo e questo è un elemento che in particolar modo vedremo oggi soprattutto come elemento centrale in quello che si chiama appunto la logistica 4.0. Allo stesso tempo però un altro elemento che è presente nel titolo di oggi è il tema dei big data, cioè in che modo queste tecnologie sono in grado attraverso i dati che producono, che consentono di raccogliere in maniera distribuita nello spazio ma anche nel tempo, possono consentire di lavorare per offrire processi, dare supporto a processi decisionali sempre più diciamo così a valore, dare un'intelligenza nuova alle imprese non soltanto di grandi ma anche di piccole dimensioni e poi c'è tutto uno spazio nuovo che riguarda anche la possibilità di pensare soprattutto anche chi opera nel mondo della logistica anche a un'innovazione proprio nei servizi e nei modi con cui si pensa all'organizzazione dei servizi e della logistica a tutti i livelli. Quindi questi tre elementi secondo me sono particolarmente diciamo interessanti da affrontare e li vedremo poi negli interventi che ci seguiranno. Io mi fermo qui e lascio la parola poi a Marco Bettio. Grazie. Grazie Eleonora per la bella introduzione, credo che tu abbia messo diciamo a fuoco molti dei temi che affronteremo con i due ospiti che abbiamo oggi che sono Marco Mazzarino e Massimo Borbiato. Marco Mazzarino è professore associato all'Uav, è uno dei massimi esperti a livello italiano di logistica, è direttore del Master in Global Supply Chain Management Logistics, è a capo dell'unità di ricerca della logistica del centro di ricerca TEDIS, la Venice International University, e quindi lavora con molte multinazionali specializzate nella logistica e quindi ci potrà dare una visione appunto di quello che sta accadendo un po' su questo fronte a livello nazionale e internazionale. Poi avremo la testimonianza di Massimo Morbiato che è amministratore delegato di EZ Lab, EZ Lab è una startup tecnologica che lavora in questa tecnologia un po' esoterica come le blockchain, quindi ci spiegherà bene come si usano, che tecnologie sono, come si possono applicare al mondo della logistica e quindi avremo anche la possibilità di avere così una testimonianza da chi dal fronte della tecnologia oggi sta applicando queste tecnologie al mondo, poi della logistica e delle filiere produttive. Allora adesso comincerei con Marco Mazzarino. Marco, in questi due anni tra Covid, problemi con la globalizzazione, tecnologie dirompenti, sono stati due anni che forse valgono come dieci. L'e-commerce è esploso, sappiamo che l'e-commerce significa di fatto logistica, quindi miglioramento delle filiere produttive, c'è tutto il tema oggi appunto di come si gestisce questa nuova fase anche globale e internazionale. Marco, puoi dirci un po' che cosa sta accadendo da quello che è poi il tuo osservatorio a livello nazionale e internazionale? Sì, grazie innanzitutto l'amica Leonora di questo invito, grazie a tutti gli organizzatori, grazie a Marco. Sono imbarazzatissimo dalla presentazione che tu mi hai fatto, però insomma colgo l'occasione per dire che non ricevo fee per questo intervento, quindi dirò, ecco, Leonora mi ha chiesto un po' di fare una sorta di inquadramento generale sul tema big data, digitalizzazione logistica, eccetera, quindi cercherò di fare questo nei limiti di quello che ci capisco per dare appunto una panoramica un po' in generale. Sì, diciamo che la logistica in realtà più che essere un settore specialistico direi, poi chiaramente Marco bacchettami pure perché sui tempi in maniera anche rude, non preoccuparti, che sai che io parlo per mestiere, quindi non farti scrupoli da questo punto di vista. Dicevo che la logistica in realtà, la logistica supply chain è un settore che in realtà per quanto riguarda gli argomenti anche di oggi è difficile da considerare specialistico, nel senso che è uno dei settori in cui si producono più dati in assoluto, insomma se pensiamo appunto ai vari sensori messi un po' dovunque, ai chips sul veicolo, sull'autista, sull'unità di carico, sull'infrastruttura, eccetera, no? Quindi diciamo rappresenta evidentemente una grande opportunità di sfruttare queste tecnologie, queste digitalizzazioni e questi big data evidentemente, no? Allo stesso tempo, come mi sembra avete già ricordato, è un settore ormai da tempo, non in memore, ma insomma da tempo diventato assolutamente strategico per le imprese, le PMI o anche le grandi, medio-grandi imprese, no? Nel senso che insomma ormai nessuno può, anzi devo dire la cosa, c'è una recrudescenza proprio in questo ultimo periodo, insomma, di mettere mano alla rete logistica da parte delle imprese come elemento proprio di competitività evidentemente. Quindi insomma in conclusione ci sono grandi opportunità che devono essere colte. Allora, come ricordava, mi sembra anche Leonora all'inizio, per dare un inquadramento generale, è chiaro che stiamo parlando del ruolo dei dati all'interno di processi decisionali. Quindi tu hai sostanzialmente dei dati, pochi, tanti, brutti, belli, eccetera, all'inizio, che in qualche modo devi riuscire a elaborare attraverso dei tool più o meno complessi e queste elaborazioni poi supportano, diciamo, decisioni. Decisioni evidentemente finalizzate al miglioramento della performance logistica e della tua supply chain in generale. Questo è quanto ed è sempre stato. Cosa cambia ovviamente quando parliamo di big data? Cambia che i dati sono tanti, sia in termini qualitativi, sia in termini proprio di peso, di quantità sostanzialmente. Sono tanti e provengono, come già ricordavo poc'anzi, da un mucchio di fonti, quindi fonti molto, 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 molto diversificate. Quindi una delle principali sfide oggi non è solo e forse non è tanto raccogliere tutte queste montagne di dati, ma la sfida vera è capirci qualcosa, riuscire sostanzialmente a decodificare questi dati, in modo da attrarne sostanzialmente delle informazioni che possono essere realmente utili per i processi decisionali, per le decisioni e quindi per il miglioramento della performance. Questo qui non è per nulla facile evidentemente, perché tu sei invaso da questa montagna di dati che arrivano un po' dappertutto e devi capirci qualcosa. Ecco, come si dice in gergo, devi essere in grado di harnessing e di vedere dei trend, delle regolarità, dei pattern, i cosiddetti hidden pattern, fondamentalmente in queste nuvole di dati. E qui ovviamente entra in gioco tutto il discorso a proposito di tecnologia, evidentemente, degli algoritmi di intelligenza artificiale, di machine learning, quindi algoritmi che imparano da soli per migliorare poi quelle che sono appunto le informazioni. Ecco, se riesci a far questo, quindi se riesci a intravedere in questa nuvola sostanzialmente delle regolarità, dei trend, eccetera, eccetera, diventi una specie di mago. Nel senso che fondamentalmente tutto ciò ti permette di, e questo è un punto centrale evidentemente, di migliorare di brutto le tue previsioni. Ecco, qui faggio molto, penso, il termine anglosassone, gli anglosassoni dicono anticipate ed è proprio questo di cui stiamo parlando. Cioè riesci a prevedere, in questo senso, a indovinare, ad azzeccare meglio ciò che accadrà. Questo è il concetto che ci viene incontro fondamentalmente. Marco, ma quante di queste applicazioni riescono effettivamente a raggiungere questo livello di previsione che è così importante nella logistica per i miei ricosti? Io volevo sostanzialmente dare un inquadramento un po' concettuale, poi parto. Ok, perfetto. Ovviamente il tema è sterminato, non si finirebbe mai. Farò un paio di esempi, ecco, uno dei quali immagino che già avete un po' una suspense, già immaginate quale potrà essere, no? Però è importante questo concetto, no? Cioè tu riesci a prevedere, a prevedere un grado di, a un livello di granularità molto, molto fine, a livello anche di singolo codice, di singolo item, di singolo prodotto. Questo è importante e che non avveniva prima fondamentalmente. Quindi se tu sai, nel senso conosci, sai quello che avvarrà grazie a queste elaborazioni, appunto tu riesci sostanzialmente a fornire in maniera tempestiva, efficace, efficiente, addirittura appunto in anticipo delle soluzioni agli utenti che possono essere appunto utenti della, no, che possono essere, che sono fondamentalmente utenti della catena logistica, utenti della supply chain, quindi dal caricatore all'operatore logistico, al retailer, eccetera, eccetera, no? Ecco, questo è un po' la cosa. Come dicono appunto gli esperti, un po', parafrasando con una metafora, è come giocare a carte, no? È come giocare a carte conoscendo le carte fondamentalmente. Quindi questo è quello che ti permette tutta questa logica fondamentalmente. Quindi riesce proprio a sapere come giocare la carta successiva fondamentalmente. E questo appunto il tema, ovviamente tutto ciò rientra alla grande nel tema della digitalizzazione, perché parliamo fondamentalmente di processi digitali in tutto questo evidentemente, no? Sulla digitalizzazione in realtà vorrei dire qualche altra cosa, ma ditemi poi se avrò tempo o meno. E questa è l'altra grande sfida che oggi abbiamo di fronte. Essere capaci di sfruttare tutto questo per offrire soluzioni. Oggi le aziende fondamentalmente hanno poco queste soluzioni, ne hanno molto poche. E questa è una grande sfida fondamentalmente, che riuscire a architettare, a progettare delle soluzioni di questo tipo qua. Ecco, nel tema della digitalizzazione, per fare un esempio, non so quanto può essere rilevante, ma fondamentalmente noi ci crediamo talmente tanto proprio con queste logiche che adesso proprio con... ci stiamo mettendo dei soldi, poche parole, nel senso che assieme a un gruppo di amici manager del Nord-Est, fondamentalmente stiamo costituendo proprio un advisory, che insomma diventerà ospicabilmente uno spin-off universitario per entrare proprio in questo mercato, perché chiaramente pensiamo che ci siano davvero tante e tante opportunità. E le opportunità, almeno giusto per una battuta, almeno come la concepiamo noi, fondamentalmente, non sono solo e non sono tanto nello sviluppare nuove soluzioni, ma nel progettare delle soluzioni, fondamentalmente. Cioè essere più, come si usa a dire in gergo, più architetti, orchestrator, system integrator, più che sviluppatori di soluzioni, perché il mondo, perché anzi, forse è proprio lì una delle opportunità, il mondo delle soluzioni IT nel campo logistico, ormai è un universo sterminato, probabilmente anche drogato, nel senso buono evidentemente, del termine. Quindi in realtà si tratta di venire incontro a quelli che sono i bisogni, che sono sempre più forti, anzi, questa cosa anche in qualche modo, data la mia seniority, come si suol dire, anche un po' mi sorprende, perché c'è una, come dicevo all'inizio, c'è una sorta di recrudescenza, fondamentalmente, soprattutto le piccole e medie imprese, non solo, ma soprattutto le piccole imprese, avvertono questi bisogni, probabilmente non sanno come fare, e hanno dall'altra parte un mondo, un universo di soluzioni IT che li sommerge, li overwhelm, sostanzialmente. Quindi ecco, fare un po' da trade union, in questo modo, quindi soddisfando il bisogno, con delle architetture che sfruttano dei tool, poi magari vorrei dire qualcosa, ditemi voi se avrò tempo o meno, è molto molto importante. Detto questo, un paio di esempi, fra i tanti che potrei portarvi, allora pensiamo cosa succede, per esempio, nel mondo del, già da tempo in realtà, non tantissimo, ma neanche poco, cosa succede nel mondo, per esempio, del trasporto terrestre, continentale, da anni, non tantissimi, sono già in questo mercato, che è un mercato digitale, fondamentalmente, sono entrati assolutamente nuovi player, sotto forma di piattaforme, piattaforme che realizzano fondamentalmente un match migliore, molto migliore, tra quella che è la domanda e l'offerta di carichi, fondamentalmente. Pensiamo, ad esempio, player che non esistevano un tempo, come, mi viene in mente soprattutto Intra, che è la piattaforma praticamente più grande del mondo, soprattutto il marittimo, ma anche terrestre, sul terrestre, mi viene in mente Teleroute, piuttosto che T-Contract, con cui anche, appunto, collaboriamo, eccetera, eccetera, ecco, ecco, quindi già da tempo avviene questo, perché teniamo ben presente che adesso stiamo parlando in maniera molto sofisticata, nel mondo del trasporto, della logistica, della superaccia, è un mondo, un settore, sono dei mercati, tradizionalmente, piuttosto opachi, piuttosto inerziali, ecco, tradizionalmente, quindi, come dicono gli esperti, pulire il vetro informativo, quindi rendere disponibili i dati completi, numerosi, al lato della domanda, ai caricatori, al lato dell'offerta, quindi trasportatori, operatori logistici, eccetera, è già un bel risultato, che significa fondamentalmente anche miglior servizio e minore tariffa fondamentalmente, no? Ecco, quindi questo già avviene da tempo con risultati rimarchevoli, sostanzialmente, ecco, tutto questo mondo qui, per esempio, si sta adesso sempre più spostando sul tempo reale, quindi soluzioni che vengono offerte in tempo reale, fondamentalmente, quindi soluzioni che è un po' come dicevo anche all'inizio, combinando serie storiche, no? Quindi guardando dei pattern storici di serie derivanti da dati storici e elementi dati che sono tanti, quindi sono big data, in tempo reale, appunto, chips nei pallet, per esempio, piuttosto che sulla cassa mobile, piuttosto che sul container, piuttosto che, diciamo, monitorare il driving behavior, quindi il comportamento di guida del driver, no? Sostanzialmente, tutte le informazioni del traffico, le informazioni atmosferiche che sono anche molto importanti per determinare tutte queste regolarità. Ecco, tutto questo, combinandovi, essendo capaci di fare questo, sempre più le soluzioni vengono offerte, diciamo, in tempo reale, no? Ecco, questo è un tema molto interessante, molto concreto, fondamentalmente. L'altro esempio, ok, scusami, no, finisci, finisci. che è così, molto spot, che, peccato che hai registrato, se non avrei detto delle cose anche un po' più taglienti, ma insomma, cerco di non farlo, dal tempo è proprio quello che ricordavate voi all'inizio, il processo digitale più noto di oggi, che è appunto il processo dell'e-commerce, fondamentalmente, che, qui ti correggo Marco, perdonami, non è logistica, ma è comportamento d'acquisto, che poi diventa logistica necessariamente, con anche un po' di malavoglia, tutto sommato, no? Perché, sì, in un settore abbastanza incasinato. Però, comunque, insomma, è un grande processo digitale che, giustamente, diciamo, induce tutta una serie di cose, di cose logistiche. e quindi, insomma, pensiamo appunto ai grandi player, non solo ad Amazon, ovviamente, in prima battuta, ma insomma, anche ad altri player. Insomma, è chiaro che i portali del shopping online generano tantissimi dati, evidentemente, no? ecco, quindi, l'idea, quindi, lo sforzo, come dicevo prima, di capirci qualcosa. Quindi, ha un livello di granularità molto, molto, qui parliamo più di prodotto, in prima battuta, no? Quindi, di comportamento di acquisto di prodotti, fondamentalmente, poi, di conseguenza, di servizi logistici. Allora, è chiaro che, dal punto di vista di un veicolo logista, no? Ciò che conta nel processo digitale dell'e-commerce, contano tante cose, evidentemente, però, uno degli elementi centrali, se non centralissimo, è, evidentemente, la gestione degli stock. Perché, questo qua, è un fenomeno, insomma, che Eleonora e Marco conoscete benissimo, no? Dal dopoguerra in poi, con l'aumento della complessità della gamma dei prodotti, è chiaro che, chi poi si ritrova sulla gobba di gestire la logistica, chiaramente, aumenta la numerosità dei prodotti, della gamma, del portfoglio, evidentemente, esplodono le scorte, quindi il business va a farsi un po'. Ecco, questo è un tema molto importante, quindi, ottimizzare gli stock è di fondamentale importanza per chi gestisce, ma non solo per Amazon, per tutti, per chi gestisce fondamentalmente l'e-commerce. Quindi, è necessario utilizzare, sfruttare al massimo questi dati che provengono dai portali, eccetera, eccetera, per riuscire a capire meglio quali sono i prodotti su cui puntare, detto in termini un po' terra a terra, no? Quindi, per esempio, rilevare la product performance, quindi quali prodotti vengono di più è importante, perché poi questo significa calibrare bene il tasso di rotazione del, del mio magazzino, del fulfillment center, se vogliamo usare la, la terminologia di Amazon, e quindi di evitare che cosa fondamentalmente di fronte a una potenziale atomica di esplosione delle scorte, di evitare da un lato overstock e da un lato stock out fondamentalmente, quindi devi riuscire ad ottimizzare, quindi quei dati sono preziosissimi per tenere sotto controllo le scorte, poi dovremmo fare un discorso adesso proprio mi chiedevi, ma non credo abbiamo tempo sulla capacità, adesso parlo a capacità data, quindi a magazzino dato fondamentalmente, non tocco la rete, quindi tenere sotto, come per esempio anche mi viene in mente tutti gli algoritmi cosiddetti di product che ben conosciamo, di product affinity, quindi sostanzialmente quali prodotti vengono consumati assieme, ecco, tutti questi marchi ingegni qua servono esattamente per far sì che le scorte non esplodano, perché altrimenti finisce l'e-commerce fondamentalmente. scorte che non esplodano evidentemente significa non solo costi, tenere sotto controllo i costi degli stock che sono fondamentali, ma anche dare servizio, perché chiaramente significa garantire dal punto di vista logistico la disponibilità del prodotto, cioè tu Marco clicchi e il prodotto ti arriva a casa, cioè c'è, c'è e ti arriva a casa, sono due cose in realtà dal punto di vista logistico, ecco questo quindi è fondamentale questo elemento qua, quindi diciamo questi data sono nell'e-commerce preziosissimi, ecco questo diciamo va detto con forza, dopodiché giustamente dicevi e così magari chiudo con una battuta se volete, dicevi ecco non sempre, sì scusate per concludere questo ragionamento, a quel punto se tu riesci a utilizzare questi big data con algoritmi di intelligenza artificiale piuttosto di machine learning, tu riesci quindi ad anticipare il comportamento di consumo fondamentalmente, quindi a quel punto tu sai già, tu sai già, quindi io spero che nessuno che ci, che qui presenti pensi che Amazon faccia delle magie, no? Oddio, ho ordinato il prodotto incredibile dopo due ore ce l'ho a casa, o è tutta questione di big data, lo sapevo già, dopodiché ecco lo sforzo che giustamente e correttamente i player fanno, una volta che ho definito l'assortimento, la gamma di prodotto, beh chiaramente cerco di metterlo dove si venderà, quindi ecco perché c'è questa proliferazione di distribution center, di fulfillment center vicino le città, le città e dove sostanzialmente, quindi ecco agendo sulle scelte localizzative e sulla gamma di prodotto ecco che avviene la magia, no? Noi crediamo sia una magia, in realtà è solo logistica insomma, anzi abbastanza anche basic, tutto sommato, no? Ecco per qua finisco con una battuta, poi se avevo tempo me lo dite voi se no anche mi bevo il caffè che mi è arrivato nel frattempo ecco una cosa, tu dicevi non sempre se avverano queste cose, infatti mi ha colpito parecchio, non so se l'avete notato in queste due settimane, no? La pubblicità di Amazon, no? Del, degli sconti del 40% su tutta una serie di prodotti, no? Anche qui Prime utilizzato in termini strategici fondamentalmente, no? Non so se avete visto, è una pubblicità abbastanza martellante, no? di 40% di sconti. Ecco questo, beh, sappiamo che evidentemente magari do uno spunto all'onora se lo riterrà di rilievo, no? Di economia circolare, no? Evidentemente, viene da chiedersi un attimino come stiamo in termini di gestione di resi dell'invenduto, no? Chiaramente c'è la gestione di resi anche in questi settori qua, sostanzialmente, ma quando io vedo sostanzialmente che neanche un taglia erba, quindi qualcosa che non è esattamente un capo benetton che si stropiccia mentre gira per il mondo, quindi dice, no, ascolta, vale 10 euro, non mi chiederai mica anche di ristirarlo, no? Mi costa più chi stira che il prodotto stesso, ma un taglia erba che immagino sia integro, perfettamente integro, ecco, anche quello si preferisce utilizzare la buona vecchia leva promozionale degli sconti, c'è il libro, il magazzino scontando di brutto, quindi leva ben nota non tanto a me che faccio logistica, ma a chi fa marketing fondamentalmente, perché probabilmente devo far spazio alle Playstation per Natale, anche perché quest'anno probabilmente il picco sarà anticipato, no? Ecco, quindi ecco, era curioso, ecco, mi ha colpito un attimino che anche questi prodotti vengono, vengono, quindi ecco, ti do ragione Marco, evidentemente queste sono previsioni non esattamente corrette, ma dopodiché, insomma, per chiudere, chiudere, sappiamo che questi, questi problemi di flussi di ritorno tendenzialmente ai grandi player, ai grandi player interessano poco, no? Sono spesso, insomma, costi che vengono addossati a chi il prodotto lo ha inviato ai full film center, ecco, quindi in termini di costi, non so, io mi fermerei qui, dopo di che... Marco, guarda, hai subito scatenato una domanda e quindi Roberta ti... Si scatenato una domanda è un po' una contraddizione. No, no, ma ce n'erano diverse, poi in realtà abbiamo risposto alcune a noi. Non so se sono in grado di rispondere. No, dai, come vedi le politiche europee in merito al green e alla digital transformation, diciamo, nell'ambito della logistica, secondo te che impatto avranno, se avranno un impatto, se siamo nella direzione corretta, tu come la vedi? Ma a parte dovrei capire un po' meglio cosa si intende per politiche green, perché adesso va di moda, evidente, anzi, soprattutto adesso, è una moda che non finisce più, no, sostanzialmente. Comunque immagino che Roberta faccia riferimento al next generation EU. Sì, allora, io posso rispondere in termini molto generali, ecco, tutti noi che bazzichiamo la logistica condividiamo un pensiero abbastanza, abbastanza, un unico pensiero. Quella logistica non c'è una contraddizione tra green e non green, diciamo, se tu fai bene le cose in logistica, fai bene anche l'ambiente. Questo è esattamente una cosa che noi stiamo predicando, però anche facendo, onestamente, devo dire la verità, non solo il sottoscritto, ma insomma, assieme a chi ha le aziende con cui, insomma, collaboriamo, eccetera. Cioè, banalmente, ecco, tra l'altro, facevo l'esempio più delle piattaforme prima del trasporto continentale o piuttosto che, boh, ma il trasporto marittimo è un po' diverso. Sul trasporto continentale hanno dato tanti, hanno fatto, stanno facendo tantissimo bene all'ambiente, perché nel momento in cui tu riesci banalmente a riempire meglio i camion, a quel punto tu hai fatto bingo, hai fatto bingo per l'azienda di, per il trasportatore, hai fatto bingo per l'ambiente, fondamentalmente, anzi, su questo si potrebbe discutere a lungo anche su politiche di incentivo da questo punto di vista, no? Ecco, c'è il problema dei problemi, secondo il mio modesto parere, ma per fortuna non solo il mio, è che noi viviamo circondati da sprechi, questo è, quindi capacità di trasporto, logistica, eccetera, eccetera, che non viene ottimizzata, quindi gli sforzi green dovrebbero essere, e in realtà, ripeto, le cose stanno già cambiando non da tantissimi anni, dovrebbero essere rivolti proprio a far questo, sostanzialmente, quindi non solamente a pensare a forma alternativa, eccetera, semplicemente, come diciamo sempre, far meglio le cose, ecco, se tu un magazzino lo ottimizzi, se ottimizzi la capacità di trasporto, eccetera, eccetera, fai tantissimo bene all'ambiente, no? Ecco, purtroppo, ecco, siamo abituati, o su questo me ne rammarico molto, siamo abituati a vedere, a essere abituati a vedere attorno a noi sprechi, perché quando, diciamo, vedi camion che sono al 20-30%, per dire un ufomismo, vedi van che farà la distribuzione dell'ultimo miglio 30%, non lo so, insomma, l'ambiente, no? Ecco, questo è un po'... Quindi Marco, sostanzialmente, quello che il messaggio ci vuole dare è che c'è ancora, ci sono tantissimi margini in questo mondo per migliorare l'efficienza e quindi sicuramente anche, è ancora un mondo, diciamo, grasso da questo punto di vista, cioè non è proprio ancora... No, non dici grasso, perché sono soldi, Cioè, l'inefficienza si paga, quindi chi fornisce soluzioni digitali per rendere più efficiente il sistema, fa risparmiare soldi soprattutto alle PMI, è per questo che funzionano queste, stanno molto ben funzionando queste soluzioni, proprio perché uno dice, ascolta un attimo, invece di buttare via soldi me li tengo, faccio delle cose e mi tengo i soldi, no? Tanti soldi, c'è chi anche ha stimato la fattura europea in centinaia di miliardi di euro, fondamentalmente, dovuta solo a inefficienze, a inefficienza. Poi chiaramente, insomma, non è che si può arrivare a un mondo ideale, evidentemente, no? Però i risultati lo dimostrano fondamentalmente, perché se l'imprenditore, adesso dico una banalità, però non è una banalità, no? Le scelte di acquisto dei servizi di trasporto, pensate un attimino storicamente come sono avvenute, come ancora avvengono, conosco quello, no? Conosco quello, no? Sì, la piattaforma ti dice, guarda, conosci 20.000 utenti in tutta Europa, probabilmente le cose ti vanno meglio e probabilmente paghi di meno, tanto è vero, insomma, che in quei mercati là sono anche sempre più flori di queste soluzioni digitali qua, perché alla fine, tornando al discorso molto becero dei soldi, quando vedi una riduzione media della tariffa del 30%, beh, un pensierino ce lo fa, insomma, no? Non sempre, non sempre, non sempre, c'è un'inerzia comportamentale fortissima, soprattutto nel Sud Europa, questo va detto, ecco, il Nord Europa è stato molto più ricettivo rispetto a queste soluzioni qua, insomma, no? Quindi c'è ancora grande spazio di innovazione. ma anche, ma guardate che queste qua sono multinazionali, queste, dato che ne stiamo parlando, approfitto, sono diventate multinazionali nel giro di pochi anni e sono delle start-up nate da giovanotti usciti dall'università che hanno detto, sai cosa, proviamo a mettere assieme, in giro per l'Europa e si sono sviluppati, insomma, non è che stiamo parlando di ExxonMobil, di Goldman Sachs, eccetera, stiamo parlando di start-up che nel giro di 3-4 anni hanno branch in tutto il... Marco, visto che hai citato le start-up, mi hai alzato una palla che non posso non prendere in questo momento non schiacciare, visto che abbiamo vinto anche la pallavolo recentemente e passerei la parola a Massimo Morbiato che è un imprenditore che ha fondato una start-up tecnologica usando questa cosa un po', diciamo prima, esoterica delle blockchain, visto che c'era una domanda prima anche sul... magari se poi anche Massimo ci puoi spiegare che cos'è una blockchain in modo, diciamo, semplice, non tecnico. Ricordo, appunto, Massimo Morbiato è un ministro delegato di EZ Lab che appunto lavora con queste tecnologie e l'ha applicata al mondo del Made in Italy insomma con diverse applicazioni interessanti ricordo sempre con piacere quella dell'Asiago della certificazione della filiera del formaggio Asiago ma non solo nei vini insomma in molto altro e lascio la parola a te Massimo. Attiviamo il microfono di Massimo, grazie. Eccolo qua. Intanto buongiorno a tutti e grazie Marco dell'introduzione. Sì, allora, io ho preparato delle slide che magari possono aiutarmi un po' in questo incontro. Vediamo se ce la faccio senza bloccare tutti. Eccolo qua. Presentazione. Ok. Dovrebbe dovrebbe vedersi mi pare completa o ricalissimo questo? No, vediamo solo come prima sostanzialmente è meglio se allora facciamo come abbiamo fatto prima sì, la vediamo meglio guarda pazienza che siamo risolto il problema ok allora con questo dovrebbe vedersi no? Sì, vediamo profetto. Allora, sì, intanto allora grazie della presentazione. Noi siamo nati come start up, non lo siamo più da sei mesi al parco scientifico qua a Padova e con l'obiettivo proprio di sviluppare applicazioni che dei dati ne fanno un grande uso. Poi in realtà sono applicate alla filiera quindi da qua si collega anche all'argomento di oggi che è un po' della supply chain logistica da quando siamo nati adesso abbiamo una sede in Francia a Rams che è una zona dello champagne in California a San Francisco il tema della nostra start up era quello di sviluppare applicazioni che in qualche modo potessero dare valore ai prodotti poi nel tempo cioè quindi da prima in agricoltura e poi mi ammanno in vari settori e il motivo per cui noi lavoriamo e applichiamo la tecnologia a blockchain è in realtà la fiducia cioè si parlava prima il professore Marco Mazzarino citava tutto il discorso dell'e-commerce uno dei motivi per cui un e-commerce funziona e non funziona al di là che deve dare un ottimo servizio a prezzi competitivi è il fatto che mi fidi di comprare le cose da qualcuno che non vedo e che il giorno dopo o dopo qualche giorno mi arrivi esattamente quello che ha acquistato quindi il tema anche della superi-chain che poi diventa poi che è quello che supporta poi l'attività di e-commerce è anche dato dal fatto che il consumatore si fidi di dove acquista e da qui la nostra scelta è quella di lavorare con una tecnologia che si chiama blockchain che ci ha permesso in qualche modo di superare questo gap e il motivo dove noi applichiamo questa tecnologia sostanzialmente è che in generale un un'azienda acquista un cliente un consumatore o business to business tra aziende quando mi fido di quello che ho comprato da dove arriva se effettivamente arriva da dove si dice quindi se è aceto balsamico se arriva da Modena o da un'altra parte non è la stessa cosa poi legati ai prodotti non c'è solo il prodotto a quantità ma ci sono tutti quei valori etici sociali che lo sostengono e la sostenibilità ambientale che ormai supera anche l'aspetto biologico cioè in realtà è quanto è costato l'ambiente e la sostenibilità ambientale qua si riporta un po' al scorso del supply chain perché non è la produzione se fosse un prodotto agricolo cioè un prodotto biologico quindi non usa fitofarmaci ma non è solo la produzione quindi fino al conferimento ma è tutta la trasformazione che è compresa e compresa anche la logistica quindi se io produco dei funghi in montagna e poi l'utilizzo lo faccio a pantelleria al di là di quanto ci ho messo per coltivare il fungo molto probabilmente quello che ho consumato per il trasporto ha avuto un impatto ambientale molto più alto quindi non mi sono mi devo neanche preoccupare della produzione quanto mi devo preoccupare di come fa un fungo arrivare a pantelleria essere comunque fresco e utilizzabile quindi l'impatto ambientale comporta tutto cioè anche quanti giri ha fatto il muletto per spostarlo quanti metri ha fatto chilometri il camio e con quale cilindrata l'ha fatto quindi noi ci occupiamo sostanzialmente di questo e successivamente a questo c'è tutto quell'aspetto che riguarda i valori scusate tutto quello che riguarda le falsificazioni quindi la produzione di prodotti che in realtà girano nel mondo e che si spacciano per qualcuno o qualcuno non è quindi l'identità digitale non è applicata solo alle persone quindi la carta di identità o passaporto ma in realtà ogni prodotto sempre più ha un passaporto che ti dice chi è e si presenta e l'obiettivo è quello di cercare di fare in modo che il passaporto sia quello originale e come abbiamo affrontato questa parte qua l'abbiamo affrontato utilizzando credo scusa perché qua non capisco perché ci mette un po' di più questo tipo di tecnologia che è la blockchain nel tempo quindi abbiamo incontrato questa tecnologia ho visto una domanda fatta da Davide che diceva di spiegare cosa vuol dire blockchain in realtà è una catena a blocchi cioè dobbiamo pensare alla blockchain come un treno che ha una serie di vagoni che passa per la stazione e quindi passato il vagone davanti io non posso più caricare niente su quel vagone perché ormai è già andato con i dati è la stessa cosa cioè se io carico dei dati in un vagone cioè una parte ben precisa del blocco della blockchain ottengo che in realtà ha una data ora certa perché questo vagone non passerà più davanti a me ma ormai è andato e una volta che va non è neanche più mio perché è condiviso con molti altri quindi non ho neanche la possibilità di portarlo a casa e cambiare il contenuto e questa è la forza che ha questa tecnologia che io ritengo che più che una tecnologia sia spiegare dal punto di vista sociale più che dal punto di vista tecnologico cioè la fiducia che viene fatta viene data al dato non è tanto il fatto che è sicuro perché è una cassaforte super sicura e inattaccabile ma è dato dal fatto che al contrario ho condiviso i dati con tanti che molti hanno interessi contrapposti per cui la modifica del dato è sostanzialmente impossibile è come se nel cavolo di paperone di paperone ci sono tutti i soldi di paperone di paperone c'è la banda bassotti che tutti i giorni pensa a come sbominare il deposito e invece noi diamo 100 dollari a 10.000 persone a questo punto diventa quasi inutile andare a fare una rapina di 100 euro per 10.000 volte quindi ho risolto il problema a monte non mi preoccupo più quindi dal punto di vista della sicurezza del dato invece di costruire un enorme controllo un enorme muro di controllo lo condivido e con quello ho fatto quindi non devo ricercare molto la bontà di questa tecnologia nel fatto che sia una tecnologia super efficiente cosa che non lo è assolutamente ma è dal punto di vista di carattere sociale cioè si è risolto un problema dalla strada opposta e qual è il valore? c'è la trasparenza nelle transazioni cioè nella supply chain dopo vediamo nella catena di fornitura io prendo dei prodotti da qualcuno che li devo consegnare a qualcun altro a questo punto io devo avere una grande fiducia di quello che mi dà il prodotto una grande fiducia a chi lo darò e alla fine il consumatore finale ottiene un prodotto che è la somma di tutto quello che è il lavoro di molti altri allora la blockchain cosa fa? cerca di dare trasparenza in tutto il ciclo di vita del prodotto compresa anche la logistica la condivisione distribuita niente di più semplice di un pacco che fa un percorso da qua agli Stati Uniti dovevamo pensare quanti sono le persone che sono coinvolte con quel pacco e quanta c'è la necessità di condividere informazioni del contenuto del pacco della sua storia dove deve andare questo è il costo del trasporto non solo il costo fisico del gasolio ma di condividere le informazioni una volta sono stati fatti i conti che molto più molto spesso il costo del dato è maggiore del costo a chilometro di gasolio quindi pensare a questo come qualcosa di semplice non lo è assolutamente ottimizzare la distribuzione come diceva prima il professore vuol dire far bene all'ambiente e far bene anche dal punto di vista economico e poi c'è l'immunità di dati registrati la fiducia viene fatta dal dato che io dico una cosa e la mantengo nel tempo non solo ma non posso neanche cambiare idea il giorno dopo perché tutti l'hanno visto dal punto di vista pratico come si rivolge questo? questo è quello che è il nostro modo di lavorare di agire in una società c'è un registro condiviso pubblico dove si mettono che è l'anagrafe del comune dove sostanzialmente io metto di ogni persona la loro data di nascita chi sono i suoi genitori dove vive con chi è sposato se ha dei figli e così via grazie a questo però io posso fare un mutuo posso comprarmi una macchina posso trovare un lavoro posso iscrivermi all'università senza di questo è chiaro che non posso fare niente quindi creare un'identità condivisa pubblica in realtà è quello che si è sempre fatto per avere una società che in qualche minimamente possa condividere la blockchain in realtà dà questo tipo di valore cioè cerca di dare almeno questo valore la blockchain poi è dal punto di vista operativo niente di più che una cassetta degli attrezzi di un idraulico quindi non è una cosa un aspetto tecnologico unico ma un insieme di servizi che si possono comporre in funzione a quello che serve come l'idraulico ha diverse chiavi di lavoro in base a quello che deve fare anche la blockchain fornisce diverse soluzioni ad esempio il primo l'immutabilità dei dati come abbiamo detto sembra una banalità insomma sapere che una cosa è avvenuta quel giorno e non può essere modificata è la base per delle valutazioni anche nell'analisi dei dati anche nel big data io non potrei fare analisi di big data tanto meno intelligenza artificiale se non sono sicuro ad esempio che quel dato arriva da una sonda di un determinato stabilimento quel giorno o quell'ora altrimenti sarebbe come in sostanza che un medico fa una diagnosi con i raggi di un'altra persona e mi dà una medicina quindi è essenzialmente avere unità digitale di anche un strumento IoT che mi fornisca delle informazioni sulla base di quella io posso prendere delle decisioni prima è stato detto dal professore il tempo per esempio è un dato importante anche nella supply chain che tempo fa c'è la burasca in mare o fa bel tempo allora sapere che tempo che fa interessa sapere che tempo che fa quando a me interessa sapere che tempo che fa sei giorni fa magari non mi interessa per prendere una decisione cosa fare domani quindi prendere delle decisioni è fondamentale avere dei dati certi l'immunità dei dati è fondamentale l'altro è lo smart contract cioè sono dei contratti che anche nella supply chain prenderanno secondo il mio punto di vista ma potrei anche sbagliare ma comunque nella supply chain sono tutti i contratti di fornitura che grazie allo smart contract diventano digitali automatici con valore legale quindi quando io devo fare anche una distribuzione il fatto di fare un contratto automatico è che sostanzialmente come fosse un programma se succede questo fai questo se mi consegni la merce in tempo in questo deposito io ti pago se no non ti pago è uno smart contract questo si fa su carta che poi viene messo un sistema informativi tradizionali con uno smart contract diventa automatico e condiviso quindi non devo neanche avvisarti che non ti pagherò mai perché tanto tu sai già che lo smart contract è andato male e poi c'è l'ultima parte che è la tokenizzazione che noi utilizziamo è l'equivalente di un valore di un bene un valore di dare un valore a un bene fisico ultimamente se basta vedere la maglietta dell'Inter dove c'è lo sponsor e quindi quando compro la maglietta dell'Inter in realtà compro un token che poi ha la proprietà della maglietta dell'Inter con questo ne posso garantire la validità nel tempo quindi in funzione a questa cassetta degli attrezzi in base al progetto che facciamo andiamo a utilizzare un prodotto un aspetto oppure l'altro un altro aspetto che è importante da dire è il rapporto blockchain cryptovaluta allora è come il rapporto tra mamma e figlio cioè il figlio è la cryptovaluta la mamma è la blockchain alla base della cryptovaluta è la blockchain quindi c'è questa fiducia condivisa la trasparenza l'immunità l'immunità dei dati anche perché se io ho due bitcoin vorrei essere sicuro che per una settimana l'immunità dei dati lo mantiene e il nostro concetto di applicazione blockchain è che se ci sono miliardi di dollari in equivalente in bitcoin può garantire che una zucchina o una zucchina o che un camion è partito a quest'ora e è arrivato a quest'altra ora presso una località quindi noi non ci occupiamo di cryptovaluta purtroppo per me perché potevo fare meglio però insomma ci occupiamo dell'aspetto che c'è prima e quindi l'aspetto che riguarda la blockchain quindi i dati l'ultima cosa per quanto riguarda anche la blockchain è che oggi la blockchain non è più una tecnologia che si applica in certi casi per fare insomma qualche applicazione ma è parte integrante ormai di quasi tutta l'economia nella supply chain tanto più che perché proprio perché quando ci sono attori nella catena che hanno interessi contrapposti avere l'arbitro quando gioco a calcio è sempre utile per capire se è rigore o non rigore e comunque anche se sbaglio ma se è rigore almeno siamo d'accordo abbiamo condiviso le regole e possiamo andare avanti e giocare quindi anche nella supply chain dove ci sono interessi contrapposti sostanzialmente avere un arbitro che ne condivide le informazioni quindi non mettiamo in discussione almeno quelle ci permette di lavorare di portare al massimo l'attività nel tempo questo è poi l'osservatorio dell'abbonazione del Politecnico di Milano dove vengono recensite i vari progetti e noi siamo quelli che hanno fatto il primo progetto e l'ultimo di quelli recensiti quindi ci lavoriamo un po' di tempo su questo e noi siamo partiti dal food e l'obiettivo del food era dare un valore ogni prodotto si deve presentare cioè chi sei insomma e quindi chi sei cosa vuol dire sei una zucca ma dovrei anche chiederti da dove vieni chi sono i tuoi genitori che ti hanno fatto così bella quanta strada hai fatto che impatto ambientale hai fatto mi fai male mi fai bene alla mia salute quindi nasce la necessità di tracciare le informazioni e le informazioni si tracciano noi nel 2016 abbiamo vinto allo SMAO una fiera portando delle zucche da Mantua che sono andate ad essere lunga poi sono andate in fiera e quindi uno poteva vedere la strada che aveva fatto la zucca per arrivare dove c'eravamo noi e questo l'abbiamo fatto seguendo i dati con l'agricoltura nell'agricoltura un caso che vale che è molto uno dei più complessi perché le informazioni che vengono utilizzate sono informazioni che vengono da diversi player quindi c'è chi fornisce i prodotti c'è chi li usa c'è chi li trasforma c'è chi li trasporta c'è chi li vende e quindi è chiaro che c'è anche dal punto di vista della social supply c'è molte informazioni da integrare noi in realtà noi facciamo system integrator quindi siamo una di quelle società che utilizzando la system integrator fa il proprio business e qua si capisce perché cioè le informazioni sono molte i player sono tantissimi ma alla fine l'obiettivo è comune è quello di portare un prodotto di qualità raccontarlo e portarlo al consumatore finale per fare in modo che scelga questo al posto di altri a seconda le informazioni che io gli porto ed è chiaro che in una supply chain le informazioni vengono portate da tanti attori e ognuno per la sua fetta ne è il proprio ne è responsabile e quindi man mano che vengono presi le informazioni vengono raccolti e archiviate nella blockchain e portate poi o al consumatore finale o poi vengono portate nel business to business per portare avanti le informazioni questo sostanzialmente è l'applicazione che noi facciamo tra le ultime applicazioni per esempio con come si chiama con alce nero quello che abbiamo fatto sono 340 coltivatori ognuno proprietario dei terreni e quindi noi abbiamo tracciato tutto quello che veniva fatto nel campo da 340 coltivatori che portavano il loro raccolto in un centro in più centri di raccolta questi centri di raccolta portavano i dati in un ufficio per fare l'olio poi l'olio portava e andava in tutta Italia nella GDO quindi il consumatore finale si aspetta di avere dell'olio in questo caso di alce nero siccome un olio biologico di un territorio ben preciso vuole avere queste informazioni per poter scegliere questo olio ed essere sicuro noi abbiamo recensito in questo progetto 74 documenti dei 74 documenti la maggior parte sono di supply chain faccio un esempio uno dei problemi più grossi che ci sono in agricoltura nel controllo è il bilancio di massa vuol dire che se io produco ho un ettaro di terreno posso produrre tot tot quintali di olive o di qualsiasi altro prodotto e quindi quando io consegno il mio prodotto devo restare in proporzione a quello che è il mio terreno ce lo posso consegnare di più cioè al solito succede nel prosecco che da un ettaro di prosecco si producono tantissime bottiglie più di quello che potrebbe la natura permettersi quindi è chiaro che diventa un problema quello che accade quindi per esempio e là quindi ci sono le bolle di consegna ma se io carico 35 quintali o 350 quintali abbiamo anche la bolla del sistema informativo che ha ricevuto quella bolla quindi io ti ho dato una bolla con 350 quintali tu hai ricevuto nel tuo sistema 350 quintali che non è così scontato e poi se ci sono fatti delle analisi dei controlli quindi la supply chain sostanzialmente è la colonna vertebrale di qualsiasi tipo di produzione che ha la oltre la parte di logistica di ottimizzazione che noi non entriamo in questo ha una serie di informazioni che sono assolutamente necessarie per capire se quello che sto mangiando è effettivamente quello che è partito che non è che non è sempre scontato e da blockchain in questo caso registrando le informazioni e tenendole condivise è immutabile e ci consente di fare questo e quindi creiamo tutta una serie Madonna e tutta una serie di informazioni che partono dalla bottiglia arrivano al consumatore finale lo stesso l'abbiamo fatto per il pomodoro nel caso del pomodoro il pomodoro in Italia entro 24 massimo 36 ore da quando viene raccolto è già confezionato quindi ci sono pochi rischi che il pomodoro non sia italiano visto i tempi che ci sono ma ha un altro tipo di problematica che è la raccolta che se la raccolta viene fatta da un sistema di caporalato questo trea dei grossi problemi dal punto di vista commerciale perché nessuno vuole comprare il tuo pomodoro perché si rifiuta di aiutare in questo caso il caporalato quindi in questo caso la tracciabilità riguarda più l'organizzazione di raccolta più di quello che è la qualità del prodotto stesso lo stesso lo facciamo con BASF che ho avviso chiaro che è sì una ditta chimica alla BASF ma il residuo della produzione è zero quindi se l'azienda agricola coltiva esattamente come sono i disciplinari di produzione il riso posso dare il risultato del riso posso darlo anche a un bambino in fasce perché non ha nessun tipo di residuo se poi invece non è stato fatto secondo disciplinare quindi trattamenti lavori nei campi trasformazione allora qua troverò dei residui che sono quelli che poi sono quelli che rimangono lo stesso abbiamo fatto per il pacchino giusto per capire anche dal punto di vista generale il pomodoro pacchino prodotto in Emilia Romagna costa 2,50 euro il pomodoro di pacchino costa 3,80 euro tanto al supermercato quindi anche qua se effettivamente viene dalla Sicilia è chiaro che anche qua la supply chain ha avuto anche un suo importante approccio poi l'abbiamo fatto con vini anche qua di territorio tipo Vignalta che sono quello che è vino il migliore dei colli con 3 bicchieri e quindi qua si trattava di capire esattamente da dove viene qual è il monte a quale altezza e qual era la sua procedura quindi abbiamo fatto più volte anche Vignitaly per restare in tema e dopo cerco di essere velocissimo visto l'ora per restare in tema dell'argomento di big data non solo logistica noi tutte le informazioni che acquisiamo vanno a finire su degli archivi su cui noi facciamo tutte le analisi molte volte noi vendiamo analisi noi vendiamo programmi quindi le informazioni vengono raccolte nella in tutta la catena di fornitura e sono fondamentali per quanto riguarda prendere decisioni applicare sistemi di decision sui go system applicare sistemi di intelligenza artificiale ottimizzare tutte le fasi di lavoro e di logistica perché abbiamo una mole di lavoro e di dati tale che ci consente poi riapplicare tutto quello che è l'analisi Scusami posso farti una domanda su questo tema dei dati visto che comunque vi occupate di un mondo tradizionale come l'agricoltura ecco com'è che questo mondo oggi rende disponibile questi dati cioè ha migliorato molto c'è stata un'attività di condivisione perché appunto come dicevi tu voi di fatto siete dei sistemi integrati cioè prendete le informazioni e le mettete le riordinate che non è proprio così semplice ma giusto per dare un'immagine ecco se puoi magari dici due parole diciamo che dal punto di vista questo vale anche in altri settori che poi vediamo è sempre quello se condividere le informazioni fa sì che il prodotto vale di più e quindi posso guadagnare di più le condivido molto volentieri facciamo ad esempio alce nero noi abbiamo avuto accesso a tutto di tutti con tutti i documenti e sono veramente tanti in poco tempo perché faceva parte della cultura del prodotto quello di documentarlo e vendolo un prezzo più alto lo stesso olio se non ha quel tipo di tracciabilità costa il 30-40% in meno allora diciamo che la cultura di condividere i dati è una roba che avviene negli ultimi anni per due motivi la GDO impone costi prezzi diciamo impone i prezzi e sono prezzi che non consentono margini tali di sopravvivere bene quindi le aziende si stanno lavorando per cercare di migliorare il proprio lavoro il proprio prodotto fare emergere il proprio marchio e a questo punto essere meno dipendente dalla rete di distribuzione perché il consumatore riconosce lui vuole lui e quindi è stato dimostrato che può pagare anche un fee maggiore se si fida del prodotto e del produttore e quindi da questo punto di vista qua rispetto a qualche anno faccia più apertura poi l'altra parte è che la digitalizzazione viene incontro perché finché i dati noi abbiamo fatto un progetto sulla soia che è morto così vediamo anche i dati negativi morto perché i dati in realtà erano su foglietti di carta volanti questo è cinque anni fa per fortuna poi si è potuto fare ma cinque anni fa non era possibile perché l'80% dei documenti era su carta scritto a mano quindi anche con la volontà possibile bisognava ridigitalitare tutto e costava molto e l'impatto era troppo elevato quindi nell'agricoltura c'è una sensibilità non tanto perché è come nella sostenibilità ognuno di noi ha un valore di sostenibilità cioè un rispetto per l'ambiente una ricerca di sostenibilità ma diciamo che la spinta principale è l'interesse economico quindi per le aziende quindi se l'azienda con la sostenibilità fa soldi è sostenibile se l'azienda con la sostenibilità è un costo beh fa molta fatica quindi l'importanza in questo caso qua è di fare in modo che la sostenibilità come la condivisione dei dati sia un valore economico se riesce un valore economico sano cioè effettivamente porta maggiore introito all'azienda io vedo che sono tutti disponibili a questo tra l'altro i prodotti italiani non hanno paragone ai prodotti di altre nazioni quindi anche chi fa poco è sempre migliore del migliore degli altri paesi e quindi a tutto si sta accorgendo si stanno accorgendo di questo si sono convinti di questo e che è vero e quindi hanno tutto l'interesse di certi segreti di tenere tra l'altro e chiudo noi non gestiamo tutte le informazioni ma solo quelle che danno valore quindi molte informazioni che l'azienda si vuole tenere perché è un segreto di famiglia su come fa una trasformazione una lavorazione non è detto che al consumatore finale interesse e se non interessa al consumatore finale e neanche al tuo cliente business to business non ha neanche interesse per noi tracciarlo così andiamo a prendere solo selezionare solo i dati che hanno un peso che hanno un valore anche qua abbiamo cambiato strategia prima prendevamo tutto di più adesso insomma molto meno faccio una panoramica velocissima perché ho visto che sta scadendo tutto il termine nei casi di applicazione anche gli enti di certificazione con cui noi lavoriamo ci sono delle problematiche dove la blockchain può essere interessante quindi chi controlla le informazioni com'è possibile controllare grazie alla blockchain possiamo geolocalizzare i controlli data ora certa e quindi molto facilmente riusciamo ad avere delle informazioni che possono aiutare nelle certificazioni i documenti sono tutti registrati nella blockchain quindi rendono inutile la trasformazione cioè la la modifica dei documenti perché ne abbiamo una versione digitale immutabile che non rende inutile nel Made in Italy cioè non solo agricoltura ma Made in Italy questo l'abbiamo fatto alla Biennale di Venezia qualche anno fa al padrino della Santa Sede c'era un prodotto di Made in Italy dove anche qua c'era la necessità di distinguersi è originale è di design e quindi portare il consumatore finale lavoriamo molto nel tessile anche qua ci sono problematiche di supply chain lavoriamo nel real estate possiamo pensare a tutta la gestione del management di un condominio tutto quello che può essere le informazioni che sono necessarie e che sono utili basta pensare all'eco bonus 110% bisogna tenere i dati per 10 anni 8 anni e quindi avere un data e una certa del dato è fondamentale nell'industria noi lo gestiamo nell'asset manager quindi tutte le attività di manutenzione di controllo le gestiamo con dei rapportini che sono gestiti con la blue chain nei controlli qualità viene utilizzata la blue chain perché qui che si è stato fatto il controllo di qualità quel giorno a quell'ora da quell'operatore che si trovava dentro lo stabilimento è un dato fondamentale e per quello abbiamo gestito per esempio la tracciabilità dei tamponi del covid l'anno scorso l'ospedale onestamente non sapeva da dove arrivavano i tamponi i kit per fare i diagnostici ci arrivavano da tutto ma insomma gran parte non gran parte ma molti non sapevano l'origine quindi del risultato degli esami era un perno all'otto noi avevamo una società qua a Padova che lo produce e quindi volevano assicurarsi i clienti che arrivasse esattamente da questa azienda non arrivasse magari da qualche fornitore su fornitore di altri fornitori e quindi non sapevano se l'esito non andava meno in questo caso il laboratorio era sicuro da dove era partito il kit e dove era arrivato questo è un caso di tracciabilità nella supply chain per garantire che il pacco era esattamente quello e lo applichiamo nelle immagini satellitari stiamo lavorando con l'ESA anche qua per tutto quello che riguarda l'analisi delle informazioni l'immagine è informazione che trasformata diventano dati anzi sono dati che trasformati diventano informazioni grazie alle informazioni vengono prese delle decisioni sulla base delle attività e lo stesso lo stiamo facendo con la 5G abbiamo fatto la sperimentazione 5G all'Aquila e quindi abbiamo avuto modo di sperimentare l'utilizzo della 5G sia nella mobilità sia nel quanto riguarda nei trattamenti automatici nei campi e chiudo i vantaggi scusami che sono di diverso tipo però insomma la parte principale è la reputazione e la sicurezza della catena di controllo cioè da dove arrivano i dati e dove alla fine vanno a finire ok ho finito grazie grazie a Marco e a te abbiamo avuto credo un'immagine molto interessante oggi dei cambiamenti in atto adesso lascerei la parola ad Angela Girotto del punto imprese digitale della Camera di Commercio di Previso e Belluno eccomi qua buongiorno eccoci qua Angela so che hai una presentazione esatto ok perfetto vedete bene sì se la metti a tutto schermo scuola la vediamo anche meglio perfetto vai perfetto allora molto brevemente io con le colleghe della rete dei più di Veneti volevamo presentarvi gli strumenti che noi come Camera di Commercio mettiamo a disposizione delle aziende appunto per favorire la digitalizzazione dei processi brevemente chi siamo siamo appunto delle strutture di servizio presenti in ogni Camera di Commercio italiana che siamo appunto dedicati alla diffusione della cultura quindi della conoscenza digitale ma non solo della cultura anche della pratica quindi il nostro intento è quello di favorire l'utilizzo delle tecnologie da parte delle PM italiane i servizi che offriamo oltre alla formazione e al sostegno economico tramite l'erogazione di bandi voucher sono anche gli assessment quindi le analisi della maturità digitale dell'azienda che facciamo tramite due strumenti gratuiti selfie 4.0 che è un questionario che l'azienda può compilare autonomamente online e zoom 4.0 che invece è un'analisi appunto più approfondita a partire da questa analisi poi il nostro intento è quello di orientare le aziende verso l'avvio di percorsi appunto per adottare le tecnologie presso le proprie realtà più approfonditamente il self-assessment appunto è un questionario a cui si accede online nel portale nazionale dei PID si compila in 10-15 minuti lo fa autonomamente l'azienda e quindi di fatto è un questionario che rivela una visione soggettiva il portale è questo qui cliccando su digital assessment scopri quanto sei digitale si accede al test si compila e al termine della compilazione l'azienda riceverà un brevissimo report che fornisce il grado di digitalizzazione aziendale in massima e poi il livello di digitalizzazione per singola area e per singolo processo questo è chiaramente molto semplice ma allo stesso tempo secondo noi molto utile per avere una veloce e sintetica fotografia appunto di dove l'azienda è maggiormente digitalizzata invece di quali processi sono ancora per esempio trattati con strumenti e metodi tradizionali e manuali per andare più nel dettaglio l'azienda può chiederci un appuntamento one to one per fare un'analisi più approfondita quindi attraverso questi incontri che facciamo oggi in videochiamata sostanzialmente noi andiamo a mettere in evidenza le esigenze che ha l'azienda di digitalizzazione per fornire anche delle linee di sviluppo future perché proponiamo questi strumenti perché appunto li riteniamo utili per fotografare quanto l'azienda è digitalizzata oggi e quindi avere maggiore consapevolezza di dove sono oggi e di dove voglio andare domani appunto strumenti che non vogliono essere statici ma dinamici quindi dare un punto di partenza per poi avviare percorsi che facciano crescere le nostre realtà territoriali nella digitalizzazione dei processi e appunto su questo tema noi offriamo servizi di orientamento e di mentoring il mentoring è un servizio gratuito che consiste nell'affiancare all'azienda un esperto professionista in uno più ambiti tecnologici per 20 ore gratuite è un servizio che appunto vuole facilitare l'adozione di tecnologie presso l'azienda quindi si entra nell'ambito pratico dell'innovazione non solo perché noi operiamo all'interno di un network e quindi laddove è possibile indirizziamo l'azienda anche verso tutti gli altri centri le altre strutture che in Italia erogano servizi specialistici nelle tecnologie 4.0 i Digital Innovation Hub i Competence Center l'università i Fab Lab sono tutti tracciati dentro un Atlante chiamato Atlante I 4.0 che non è altro che un portale in cui ognuno può andare a cercare la struttura per area geografica piuttosto che per tecnologia quindi se sono interessati ai big data e ho bisogno di supporto su questo tema non so a chi rivolgermi all'interno di questo portale posso vedere se c'è qualcuno a me vicino a cui posso rivolgermi e questo appunto è il network di cui vi parlavo quindi non solo noi come punti impresa digitale ma anche appunto strutture più specializzate focalizzate in una tecnologia il tutto questo perché sostanzialmente il DESI che è l'indice di digitalizzazione dell'economia e delle società che viene indetto annualmente fotografa una situazione un po' problematica per l'Italia perché questo è quello del 2020 perché quello del 2021 uscirà a breve ma fino all'anno scorso eravamo quart'ultimi come paese digitalizzato e quindi questo evidenzia la necessità di crescere e si cresce se anche l'azienda cresce quindi il nostro intento è proprio quello di favorire la crescita e la far diventare appunto le nostre imprese il nostro territorio il più digitalizzato possibile quindi il più efficiente ed efficace possibile chiaramente io parlo a nome anche delle mie colleghe degli altri PID del Veneto e quindi ho messo i riferimenti email a cui potete contattarli se volete appunto conoscere maggiormente un servizio o ancora meglio riceverlo e quindi usufruirne io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio soprattutto anche i relatori per gli interessanti spunti che ci hanno fornito grazie grazie mille ringrazio Angela Girotto e i relatori di questa giornata vedo che non sono arrivate domande in chat vorrei per chiudere fare riprendere alcune delle parole chiave che Marco Mazzarino e Massimo Orbeato in particolare hanno evidenziato e che credo possono essere gli spunti uno degli elementi importanti che Marco Mazzarino ha sottolineato è questa dimensione di apprendimento continua l'idea che io posso anticipare attraverso i dati ma non gestire semplicemente con delle previsioni a lungo termine ma in tempo reale quello che sta succedendo lungo la catena del valore anche rispetto al mio mercato e questo rappresenta uno degli asset più importanti per un ruolo anche diverso diciamo della logistica come strumento fondamentale abbiamo visto sia da un punto di vista della gestione dell'efficienza dei costi ma quello che ci ha mostrato anche Massimo Orbeato è che attraverso strumenti come quello della blockchain io posso fare un processo di upgrading cioè posso ridare valore anche all'interno di attori anche magari di piccole e medie dimensioni in una filiera molto più lunga in cui ci sono attori diversi che possono avere un ruolo di presidio magari più vicino al mercato penso alla grande distribuzione c'è però anche un altro elemento importante che sottolineerei e che ci ha detto per esempio appunto Marco Mazzarino che il problema ormai non è tanto la disponibilità del dato quanto di leggerlo in maniera intelligente questo credo che sia uno degli spunti importanti che ci ha condiviso e che richiede però allo stesso tempo poi di avere da un lato una serie di competenze per poter utilizzare questi dati ma allo stesso tempo anche avere una serie di soggetti che possono aiutare pubblici e private anche operatori specializzati che possono non soltanto fornire strumenti tecnologici ma possono aiutare poi le imprese a capire qual è il valore vero della dimensione della logistica gli esempi che ci portava della possibilità di gestire in maniera ottimizzata i propri prodotti per esempio in chiave e-commerce quindi come uno degli elementi che poi richiede anche una riorganizzazione da un punto di vista logistica è un elemento molto importante quindi oggi questo incontro voleva anche sottolineare come ci sono una serie di ricadute del back office mi verrebbe da dire che non sono così visibili per esempio da un punto di vista dell'e-commerce su cui abbiamo fatto diversi webinar anche nel corso della passata stagione e che però devono essere sempre più messi a fuoco e che rappresentano oggi un elemento forse di frontiera su cui andare a costruire il valore appunto le esperienze che ci ha mostrato su filiere diverse Zetalab con il caso della blockchain sottolineo che c'è una dimensione non soltanto di fiducia di coordinamento ma anche di valore diciamo legato alla dimensione dell'intangibile tutte quelle informazioni che raccontano la storia del prodotto e che si legano molto bene anche al made in Italy oggi devono essere presidiate devono essere catturate devono essere raccontate e questo a maggior ragione soprattutto in un contesto anche internazionale questi elementi costituiscono un elemento diciamo così di non soltanto di frontiera ma dell'oggi perché abbiamo visto che ci sono già aziende che lo stanno praticando e riteniamo che possano essere un'opportunità sempre più ampia per imprese appunto di piccole ma anche di medie dimensioni come percorso che in qualche modo può essere tracciato e anche fattibile quindi io vi ringrazio ringrazio i nostri i nostri relatori per il loro contributo ringrazio anche chi in chat ha dato già dei primi riscontri positivi a questo incontro e vi ricordo che il prossimo appuntamento appunto sarà ottobre il 12 di ottobre oggi abbiamo parlato di sostenibilità in parte abbiamo accennato al tema dell'economia circolare tratteremo specificatamente di questi temi di come le tecnologie digitali aiutano ad essere più circolari aiutare le imprese dal punto di vista della sostenibilità nel prossimo appuntamento grazie a tutti e a tutte a presto grazie a voi grazie buonasera grazie a presto ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti